Guida ridicola su The Witcher, il GTR. Il vilico, li hai sempre visti come inutili spettatori della tua storia, ma adesso è tempo di metterti nei loro sodici stracci. Il vilico è il comune abitante di villaggi e città, colui che mette le sue umili abilità agricole al servizio dell'avventura, accompagnato il tutto da un alto potere di razzismo continuo, perché siamo sempre su The Witcher dopo tutto. Infatti la sua abilità di base, in tolleranza, dona al vilico il coraggio di tenere testa ad un qualunque individuo odiato e temuto, e anche di portare altri vilici dalla sua parte, proprio come dei dannati ultratifusi di calcio che fanno disastri per un col di troppo dalla squadra avversaria. La via del contadino permette al vilico di raccattare il massimo dai prodotti dell'agricoltura, di addestrare gli animali da soma, e di effettuare dei piccoli rituali magici come dei poverti due di seconda mano. Oh no, secondo me, a rogo! La via del cuoco consente al vilico di ricavare il massimo in un componente organico, sbudellando la peste che trova, di preparare un tonico per guarire qualcuno da status avvelenato e simili, o di cucinare il piatto della nonna, dove ciascuna ricetta a disposizione dona una volta al giorno dei vantaggi o svantaggi, a seconda delle sue necessità. Infine, la via dell'operaio dona al vilico un potenziamento nel proprio fisico, permettendo così di portarsi in spalla più peso degli altri membri del gruppo. Può persino ubriacare il prossimo con un drink di sua invenzione, e persino di liberarsi dalla presa di un nemico, mordendogli l'orecchio o qualunque altra parte del corpo, facendogli quindi una figura, eeeh, sfigurata. Seguimi per altri video simili.